Ma bello a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, qui ai Future Games Ragazzi, oggi siamo col video, penso più atteso sul mio canale, penso che starete attendendo tutti Penso che lo staranno attendendo tutti quelli che hanno partecipato Ragazzi, oggi siamo con l'estrazione, che non è proprio l'estrazione, ve lo dico direttamente Del vincitore del contest Allora ragazzi, per chi non lo sapesse, per chi ora sta vedendo il video Io ho caricato esattamente un mese fa, no se non un mese, 27 giorni fa un contest Il contest dove regalavo la Deluxe Edition di FIFA 17 Ok ragazzi, la Deluxe, eccola qua Cioè io non l'ho mai usata, l'ho comprata solamente per voi E come vi ho detto, per averla e per vincere bisognava naturalmente scrivere nei commenti del video che ho caricato del contest Io partecipo Il gioco è solo per PS4, perché ho comprato così Quindi solo chi ha la PS4 può partecipare Vabbè, ma anche chi vuole, anche chi ha il PC può partecipare Se lo tiene per sfizio il gioco, non lo so, non ve lo so dire Comunque ragazzi, allora Premetto una cosa, che sono contento perché abbiamo raggiunto tipo 20 like E 160 visual, una cosa del genere Però non sono molto contento perché Comunque a 500 iscritti non ci siamo proprio arrivati Me ne mancano 5 E quindi vi propongo un'altra sfida Se questo video arriva a 10 like Ma cosa più importante, arrivo a 500 iscritti Io tra domani e dopo domani Arrivando a 500 iscritti, una volta arrivato a 500 iscritti Io tra domani e dopo domani vi carico il video di un altro contest Ma penso molto più importante di FIFA 17 Non vi dico cosa vi regalo Perché sarà una cosa di un valore 4 volte quello di FIFA 17 O 3 volte quello di FIFA 17 La Deluxe Edition di FIFA 17 Facendo un piccolo calcolo 4 volte precisamente Facendo un piccolo calcolo Io la Deluxe Edition l'ho pagata 90 euro 4 per 9 fa 28 Sono 280 euro circa Esatto, quello è il valore Tra il 280 e i 300 euro Quello è il valore della cosa Che metterò in palio Tra domani e dopo domani Solamente se però arriviamo a 500 iscritti ragazzi È una cosa, penso, di un valore inestimabile Che molto probabilmente Cioè, coloro che mi seguono E che volevano FIFA 17 Ce l'hanno Penso che da questo indizio avete capito Però io non ve lo dico il nome Vale semplicemente Tra i 280 e i 300 euro È mia Io ve ne comprerò Una nuova tra poco Quindi Praticamente non è manco usata Perché forse l'ho usata Un mesetto Un mesetto e mezzo Quindi ragazzi Io ve la regalo Con un semplice contest Però io quel contest lo farò E metterò Altre sfide Cioè, tipo Che dobbiamo aumentare Di 20 iscritti 30, 40 Dipende Dipende da come va questo video Se arriviamo a 500 iscritti Perché se non ci arriviamo Io non la metto nemmeno Non la metto nemmeno In palio Questa cosa Tra virgolette Questa cosa Perché penso che pochi di voi Avranno capito Comunque ragazzi Il vincitore del contest Ora Senza dilungarci In chiacchiere In chiacchiere Il vincitore del contest Di FIFA 17 Della Deluxe Edition Di Future Games Il contest di Future Games È Pritox Gamer Il vincitore Del contest Del contest Della Deluxe Edition Di FIFA 17 Sul canale di Future Games È Pritox Gamer Pritox Se stai vedendo questo video Faccio Ti faccio le mie congratulazioni Sei stato molto Ma molto fortunato Io ho fatto L'istrazione Su un sito Non ve l'ho portata Perché sinceramente Era un po' Noioso farlo Però comunque Il vincitore È Pritox Gamer Mi dispiace Per tutti gli altri Mi fan Che purtroppo Non sono riuscito a vincere Però come vi ho detto Ci sarà quest'altro contest E poi in futuro Altri contest Tipo qualcuno Su GTA Non lo so Vedrò Mi regoleremo in futuro A seconda Se voi mantenete Le sfide Le promesse Che io vi faccio Cioè Ora dobbiamo arrivare A 500 iscritti Con questo video Dagli raga Dagli Proviamoci Perché altrimenti Il contest Con impagno Una cosa Dal valore Di 300 euro Non lo farò Ragazzi Arriviamo a 500 iscritti Entro Domani O dopo domani E vi porterò Il contest Di questa cosa Dal valore Di 300 euro Ora ragazzi Vi lascio Vi lascio Spero che il video Vi sia piaciuto Perché sinceramente È passato molto tempo E lo volevo fare E mi raccomando Lasciate 10 like Per questo video Ma cosa più importante Arriviamo a 500 iscritti Per avere un nuovo contest Con un valore Della cosa da vincere Di 4 volte Quella della Deluxe Solution Di FIFA 17 Ragazzi Mi raccomando Ci tengo Arriviamo a 500 iscritti Mi raccomando Superiamoli Addirittura Ci ci facciamo Io tra domani E dopo domani Vi faccio il video Del contest Di una cosa Dal valore Di 300 euro Vabbè ragazzi Noi ci possiamo salutare così Spero che il video Vi sia piaciuto Alla prossima Anzi A domani O a dopo domani Alla prossima Alla prossima Alla prossima